ultimo uomo per la squadra alleata ultimo nemico rimatto se rimani in questa zona il nemico ti scoprirà la tua posizione squadra d'attacco eliminata missione completata scopriete mi ricarico in questa zona il nemico ti scoprirà segnalate ora se fa un atta hit ti segnala anch'io non so dove sia stato si cazzo bello pulito 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 come il culo di un bambino guarda la pistola muo' entrono da lì sono 15 secondi non ci faccio stai qua il nemico sta difendendo il contenitore proteggete il contenitore di più rischio bravo bravo vabbè dai ciao vabbè dai i nemici ultimo nemico rimasto squadra d'attacco eliminata missione completata sventate ulteriori accessi al contenitore e si dà tutti per prendere il contenitore proteggete il contenitore di biorischio vittoria alla difesa nemici eliminati con il cibo ciao